Raffaele Donini, nella notte si è chiusa la direzione del PD, immagino delicata al di là del confronto interno perché i temi sono delicati, c'è un governo da fare, c'è una posizione Bersani, ci sono i clirini, c'è il finanziamento pubblico. Partiamo un attimo dal governo. La sensazione è che voi stiate spingendo Bersani ad andare da Napolitano quando Napolitano ha fatto capire che un governo di minoranza non l'accetta. Tanto è stata una direzione vivace, vera, costruttiva e unitaria perché poi nella relazione di apertura che ho svolto si sono praticamente riconosciuti tutti gli interventi. Noi diciamo che pur essendo stato questo risultato deludente per il PD, il PD si deve assumere la responsabilità di proporre alle Camere avviso aperto un governo di cambiamento e questo per noi è un progetto che non ha né subordinate nel piano B. Bersani può fare il presidente di un governo di cambiamento sfidando anche coloro che si sono proposti come forza di protesta, altrimenti bisogna ritornare subito al voto. Quindi lei dice o Bersani oppure al voto? Questa è la nostra posizione anche perché la prova diciamo contraria sarebbe quella, la direzione contraria sarebbe quella di fare un governo con Berlusconi. Noi abbiamo detto, noi non vogliamo assolutamente un governo con il coinvolgimento del PD e di Berlusconi, non accettiamo di collaborare a sostenere un governo perché la nostra fase diciamo di responsabilità nazionale l'abbiamo pagata anche molto cara, non accettiamo di misurarci con quelli che stanno manifestando nei tribunali per difendere Berlusconi dai suoi processi e dei procedimenti giudiziari. Senta, tecnicamente si potrebbe tornare al voto già a giugno, bisogna aspettare ottobre, ci vuole comunque un governo tecnico di passaggio? Non faccio il presidente della Repubblica e per certi aspetti non lo invidio, però o matura dentro il Parlamento una forte assunzione di responsabilità anche da parte del Movimento 5 Stelle oppure è giusto rivolgersi direttamente nuovamente ai cittadini nelle modalità ovviamente che riterrà opportuno il Capo dello Stato. Senti, il risultato è più merito dell'esploit dei grillini o demerito di voi, del centrosinistra del PD? Ma sicuramente c'era tanta fame di cambiamento che il PD non ha saputo pienamente interpretare. Noi ieri sera abbiamo detto per esempio che un rinnovamento proposto da noi però mitigato per esempio nelle candidature in Parlamento da eccezioni, deroghe e compromessi non è un rinnovamento percepito dall'opinione pubblica. Abbiamo detto che a noi è toccato il compito di assumerci la responsabilità di sostenere un governo come il governo Monti, profondamente impopolare, che ha certamente salvato il Paese dal baratro finanziario in cui l'aveva cacciato Berlusconi ma non certamente a saldo zero dal punto di vista elettorale. Poi c'è anche ovviamente il merito di un movimento che è stato straordinario in termini di mobilitazione e anche di coinvolgimento dei cittadini che però oggi è la prova del nove perché o riesce a cambiare le cose, a contribuire al cambiamento oppure si renderà evidente la sua assoluta sterilità dal punto di vista politico e istituzionale. Senta dire a Bersani di andare avanti, di presentarsi a Napolitano potrebbe anche suonare un po' malignamente come che sia Napolitano a farlo desistere da queste ipotesi anziché e noi del PD. Il nostro è l'ennesimo senso di responsabilità, abbiamo la maggioranza assoluta alla Camera, siamo maggioranza relativa al Senato, abbiamo un leader eletto da 3 milioni di cittadini elettori del PD e del centro-sinistra, perno di una coalizione che comunque è la prima nel Paese, al di là di tutte le discussioni giuste su un risultato deludente che noi siamo i primi ad aver ammesso come sconfitta, però insomma c'è da governare l'Italia e penso che Bersani abbia tutte le caratteristiche per poter chiedere appunto l'assunzione di responsabilità da parte del Capo dello Stato. Senta, sembra che ormai tutti i problemi passino dalla riduzione del finanziamento pubblico, del finanziamento pubblico ai partiti, che tutto sia un fatto di soldi. Allora, amministrare bene i soldi pubblici è assolutamente fondamentale, fare le cose in maniera strategica è fondamentale, però probabilmente quello è un passaggio, poi bisogna avere però delle idee e delle strategie. Però, finanziamento pubblico, PD di Bologna, quanti soldi prendete? Noi pochissimi, perché noi abbiamo un bilancio come PD di poco più di 2 milioni di euro all'anno e soltanto 3-4% delle nostre entrate deriva dal finanziamento pubblico, per cui quando noi diciamo che l'eliminazione del finanziamento pubblico non può essere un tabù, soprattutto se collegato alla necessità di discutere una legge sulla trasparenza e sulla democrazia interna dei partiti, apparentemente facciamo uno sforzo da poco dal punto di vista finanziario, anche se ovviamente la mancanza del finanziamento pubblico poi dovrebbe ripensare tutta la forma partito nel suo complesso anche a livello nazionale. Noi però la collochiamo in un altro contesto questa riflessione, certamente non all'inseguimento di Grillo o di altre posizioni politiche, che tra l'altro Grillo non può rinunciare a un rimborso elettorale che non gli spetta perché non si è presentato in regola con le normative attuali che prevedono per esempio il deposito di uno statuto, di democrazia interna. Quindi lui sta dicendo Grillo rinuncio a rimborso elettorale in realtà non ne ha diritto? Certo, in base alla legge attuale non ha assolutamente diritto ai rimborso elettorali perché non ha presentato uno statuto che poi tra l'altro si è scoperto di recente appartenere un po' insomma a una dimensione un po' familiare. Non da oggi noi denunciamo una gestione padronale privatistica, no, non solo del logo anche del movimento, ma al di là di questo noi diciamo se oggi, ed è vero, la decrescita di reddito dei cittadini italiani è la più acuta dal dopoguerra, se oggi il tasso di disoccupazione soprattutto di donne e giovani è il più alto dal dopoguerra, la politica non può voltarsi dall'altra parte e quindi noi non dobbiamo solo comprendere le sofferenze sociali, dobbiamo anche un po' condividerle e in questo contesto credo che un partito non possa ritenere un tabù l'eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti perché oggi ai cittadini occorre esprimere vicinanza, capacità di impegno per appunto uscire dalla crisi e soprattutto tantissima sobrietà e sostenibilità dell'azione politica. Questo vuol dire però che anche il PD di Bologna provincia lascerà a casa delle persone? Vuol dire che dovremmo, ieri sera è stato detto, in direzione, dovremmo fare i nostri bilanci non comprendendo quella quota di finanziamento pubblico che noi per ora diciamo congeliamo anche perché deve essere una decisione nazionale, però insomma siamo disponibili a fare la nostra parte, d'altra parte quando siamo andati in campagna elettorale e ci siamo misurati con la sofferenza delle persone, da quella sofferenza noi siamo rimasti davvero colpiti e non possiamo assolutamente pensare che la politica non possa fare sacrifici. Senti, è un pensiero anche a Renzi perché Renzi si sta muovendo ogni tanto parlando, ogni tanto diciamo con qualche silenzio però si muove, fa sentire il suo peso, si sta comportando politicamente e partiticamente in maniera corretta in questo momento? Io non penso che Renzi si stia comportando in maniera scorretta, penso che abbia lealmente sostenuto Bersani nel corso della campagna elettorale, lo si è visto anche qui a Bologna, penso che adesso, almeno quello che dice, condivide con noi la necessità di sostenere a pieno il tentativo di Bersani di formare un governo di cambiamento, ovviamente esprime anche le sue idee, questo penso che in un partito democratico non possa essere precluso, noi abbiamo come dire le spalle abbastanza robuste nel partito democratico per reggere un dibattito che comunque deve essere sempre costruttivo, in avanti, ma che deve essere necessariamente anche fresco, libero. Grazie.